Con partenza da Casutta nei pressi di Sacile e d'arrivo a Cimulais nelle Dolomiti Friulane si è corsa la 26esima edizione della Casutta Cimulais in Memorial Piero Pitarella. 120 chilometri con in gara la categoria degli Junior. Gruppo compatto nel finale, poi una caduta nei pressi dell'ultimo chilometro spaccava il platone in più tronconi. A giocarsela rimanevano davanti una quindicina di concorrenti, fulminati dallo sprint del siciliano-romano, che superava Conci, lo sloveno Weber, Fortunato, Gandin, Kumar, De Rovere, Maguolo, Petelin e Verardo. 121 chilometri in 2 ore, 50 minuti e 50 secondi, alla media di 42,498. Simone Belio della Northway, banca della marca, indossava la maglia della Challenger, provincia di Pordenone. La salita è sicuramente un tuo punto forte, però in volata non perdoni mai. Sì, era un arrivo adatto a me, ci ho provato fino alla fine, ci credevo in questa gara e ce l'ho fatta. Una prima stagione veramente speciale, già quattro vittorie dopo quattro mesi di gare, quindi c'è ancora margine di migliorare. Sì, quello si è, non si migliora, sempre si migliora. In prospettiva azzurra hai qualche buona speranza? Speriamo di fare qualche gara un europeo, un mondiale, c'è un appuntamento importante. E la tua Sicilia cosa si dice? È contenta di me perché sto facendo molti risultati ed è contenta.